Vicino alla croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria Maddalena. Gesù dunque, vista la madre e presso di lei il discepolo che amava, disse alla madre, Donna, ecco tuo figlio. Quindi disse al discepolo, ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'ha presa in casa sua. Dopo ciò, sapendo Gesù che già tutto era compiuto, affinché si adempisse la scrittura, disse, ho sete. C'era là un vaso pieno di aceto. Fissata dunque una spugna imbevuta di aceto a un ramo di isopo, glielo accostarono alla bocca. Quando ebbe preso l'aceto Gesù disse, tutto è compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito. I giudei, siccome era giorno di preparazione, perché i corpi non rimanessero sulla croce di sabato, quel giorno di sabato era infatti solenne, chiesero a Pilato che spezzassero loro le gambe e venissero rimossi. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe del primo e dell'altro che erano stati crocifissi con lui. Venuti da Gesù, siccome lo videro già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con un colpo di lancia gli trafisse il fianco e ne uscì subito sangue ed acqua. Colui che ha visto ha testimoniato, e la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice il vero, affinché anche voi crediate. Questo avvenne infatti affinché si adempisse la scrittura. Non gli sarà spezzato alcun osso. E ancora un'altra scrittura dice Guarderanno a colui che hanno trafitto.